Lo abbiamo annunciato, è già qui con me Mauro della Bottega Malatini. Ciao, ben trovato. Ciao Bea, ben trovato a te. Allora, il nostro viaggio meraviglioso che ci facciamo attraverso la storia del profumo anche oggi, così, si ferma, fa un'altra tappa in Oriente. In estremo Oriente. In estremo Oriente. Andiamo proprio ai limiti, ai confini della terra, quindi andiamo nel popolo della Cina. Sì. Cina, Giappone. Perché abbiamo parlato che il profumo comunque è legato alla storia dell'incenso, siamo partiti da lì. E anche nell'estremo Oriente c'è questa grande cultura proprio dell'incenso. Pensa che è talmente importante che la radice xian traduce sia la parola profumo che la parola incenso. Quindi è molto importante proprio il legame che c'è. Infatti io qui ho portato una scatolina, molto particolare, giapponese in questo caso, e aprendo, già viene fuori un profumo meraviglioso, è un incenso, un cipresso giapponese. Ah, ok. E come vedi, la differenza tra gli incensi giapponesi e quelli indiani che conosciamo è che sono fatti solamente di resina pura, non hanno l'anima in legno. Sono molto più pregiati, molto più delicati come profumi, quindi si spezzano facilmente perché non hanno quest'anima in legno, ma sono di una qualità veramente tanto alta. Naturalmente stiamo parlando degli incensi, quelli che si bruciano normalmente a casa. Sì, quelli che si bruciano normalmente a casa, detto bene. Ok, ma in questo senso poi bruciano anche prima? Bruciano, no, non bruciano. La tempistica è sempre la stessa, fanno molto meno fumo perché non hanno dentro l'anima in legno e l'odore quindi è meno materico, non ha la combustione del legno, quindi sono un po' differenti. Ma tutto questo perché comunque anche nell'antica Cina e poi quindi anche nel Giappone che comunque sono strettamente connessi, no? Anche dalla scrittura, le lettere. L'incenso faceva parte proprio della ritualità sui tempi, fuori dai tempi o all'interno dei tempi, sia buddisti che degli altri comunque religioni cinesi o giapponesi. Hanno comunque l'utilizzo dell'incenso sempre per ricollegarsi alla divinità. Ok. Quindi è sempre il tratto in comune con anche l'Occidente e comunque sempre questo utilizzo della... Perché appunto con Mauro stavamo peraltro anche parlando di quanta passione ci sia, no? Nell'ambito dei profumi e l'abbiamo già sottolineato diverse volte perché sei venuto qua anche con delle essenze parlando proprio dell'incenso. Quando uno parla dell'incenso oggi in Occidente è sempre legato a una tradizione religiosa, culturale, cattolica, per cui il profumo dell'incenso se lo senti nel profumo ti immediatamente collega a, che ne so, ai riti, alle questioni cattoliche. Per cui non sempre piace. No, anche perché considera questo che ad esempio nella tradizione cristiano-cattolica, ad esempio, l'incenso viene utilizzato molto di più nel... durante il rito funebre, no? Le funzioni, esatto. Ad esempio già nella ritualità ortodossa tutte le messe vengono comunque irrorate di incenso, quindi... Che già è meglio, no? E così. E quindi che succede? Che a volte capita che l'input olfattivo dell'incenso si lega magari in un momento triste, no? E quindi è normale che quando qualcuno sente l'incenso non ha... non ne vede il piacere perché comunque sente questo odore, ma anche se ha avuto un cattivo rapporto con la religione, magari potrebbe dire che non mi piace perché mi ricorda questo, no? E quindi, come al solito, c'è il discorso che, come dicevi giustamente, comunque si legano i ricordi agli odori e quindi in questo caso l'incenso potrebbe essere negativo per quello. Certo, come ti ricordi l'odore del sugo di nonna, ti ricordi l'odore dell'incenso e quindi molto spesso lo leghi a cose che non sono tanto piacevoli. Torniamo su questo discorso tra pochissimo, entrando proprio di più in Cina e in Giappone. A tra poco con Mauro. L'Hub, lo spazio delle idee. In questo nostro appuntamento stiamo facendo due chiacchiere con Mauro Malatini. Naturalmente stiamo parlando di profumi e stiamo parlando di incensi e di oriente, estremo oriente. Sì, perché abbiamo visto che comunque anche nell'estremo oriente c'era un grande culto del profumo. Ad esempio le bambine, è connesso molto alla bellezza, quindi anche le bambine che avevano fin da due o tre anni bevevano delle bevande aromatiche perché la pelle doveva profumare. Ma dai! Quindi diciamo che l'oriente dall'occidente si differenzia un po' dalle materie prime che adesso un po' ti dirò, ma è proprio il concetto anche di bellezza, no? Quindi la pelle di afano, quindi il trucco... Non prendere il sole. Non prendere il sole assolutamente, no? E quindi... Beh, patti bravo, insomma, no? È proprio un emblema italiano della donna che va in giro con l'ombrellino per non prendere il sole. E ad esempio c'erano delle super modelle, no? Tipo... Una si chiama sempre Xiangfei che erano considerate degli emblemi della bellezza e loro comunque facevano questi bagni anche di aromatici proprio per profumare la loro pelle. E quali erano le materie prime? Ad esempio le camelie, da cui poi deriva anche il tè perché è della stessa famiglia, quindi anche il tè verde appunto. e i fiori di ciliegio famosissimi nella fioritura di Sakura, quindi nella fioritura del giapponese ad esempio. Ma c'è una materia prima particolare di cui io non conosco l'essenza perché non è così utilizzata e ha un nome che si chiama Telosma Cordata. Allora, il Telosma Cordata ha un olore dolcissimo tanto a tal punto che c'era una favola cinese che racconta che in un castello, fuori dal castello erano arrivati dei guerrieri, quindi in stato di assedio, ma al calare della notte questo fiore che emana il suo profumo di notte è talmente dolce che a quel punto i guerrieri si addormentano con questo profumo dolcissimo rimbambiti e la mattina dopo se ne scappano, vanno via perché comunque si erano riappacificati proprio perché comunque il profumo anche in Oriente viene utilizzato proprio per riappacificare Scusa, è per questo. Io non ho mai visto in realtà un cinese, un giapponese arrabbiato. Eh, sono estremamente lo zen. Infatti, anche secondo la disciplina, pensa alla disciplina zen A parte Bruce Lee Nella disciplina zen c'è tre indicazioni per far sì che una donna sia bella ed è l'aria pulita, l'acqua fresca e limpida, che deve bere naturalmente, e un buon riso maturo. Ah, ok. Questa era la dieta. Ma sono cose che possiamo comunque fare, eh? La dieta per la bellezza secondo la disciplina zen. Allora, tutto questo però mi fa venire in mente, così poi chiudiamo, che come appunto spesso le spezie che vengono mangiate ridanno, no? Un odore particolare alla pelle Ugualmente, insomma, quindi stiamo attenti anche a che cosa mangiamo e non è soltanto una questione di alito No, perché è una, l'organo, cioè la pelle è un organo emuntore, si dice, quindi serve per depurare, dare tossine il corpo, no? Come il filo e come i reni. È il più grande perché è il più esteso la pelle Quindi, e tantissime cose vengono espulse dalla pelle, come ad esempio gli ormoni, come i farmaci, le tossine dei farmaci, o anche le spezie come l'aio, la cipolla o le varie spezie, no? Che si usano in cucina. E quindi questo cambiano, questi odori qua cambiano l'odore della pelle. Ecco perché si dice che l'odore cambia della persona. Ma allora se uno vuole profumare cosa consigli di mangiare? Beh, sicuramente deve bere acque aromatiche cinesi, no? Sicuramente evitare dei sapori estremamente, no, forti come l'aio, la cipolla e le spezie Questi passano e cambiano tantissimo l'odore della pelle, quindi Ok, quindi al di là del profumo, che per carità uno dovrebbe utilizzare lavandosi Sempre, naturalmente. Quindi tutti quanti a fare i bagni di aria pulita, acqua limpida e tanto buon riso maturo. Ecco, benissimo. Grazie Mauro, ci troviamo la prossima settimana. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.